Entriamo adesso nell'ultima giornata, nella farmacia dove il suo viso bianco e senza pace non risponde al saluto del metronotte, viso assetato, non posso valicarlo, è lo stesso che una volta chiamai amore, qui, nella nebbia della comasina e camminiamo ancora verso un vetro, poi lei getta in un cestino l'orario e gli occhiali, si toglie il golf azzurro, me lo porge silenziosa Perché fai questo? Perché io sono così, risponde una forma dura della voce un dolore che assomiglia solamente a se stesso, perché io né prendere né lasciare